Ciao ragazzi, benvenuti in un altro tutorial di Rony Sky. L'ultima volta ho fatto quelli dei livelli di Alan Walker. Adesso vi dico come giocare a livello Fade Remix. Dovete andare sulle impostazioni e poi cercare data e ora. Poi disattivate questo e poi andate sulla data 18 di maggio 2018. E poi chiudete e riaprite Rony Sky. Adesso dobbiamo aspettare. Vedete sempre quel sail? Vabbè tante quelle vede. E poi chi, vabbè, vi appargo e mi vede alla volta. Avevo giocati. Poi sei andato su questo livello. Purtroppo ti dice che non te fai. Invece se disattivi tutto quanto va. Vabbè anche se andavo a giocare. Adesso vi farò vedere un po' di questo livello poi dopo chiudo il video. Anzi no, se perdo chiudo il video. Ok, 3, 2, 1.